Nel mese di aprile 1945 ormai nessuno più dubitava che ci si avviasse verso la fine del conflitto. Da un canto pertanto i partigiani stavano preparando e organizzando quella che era l'insurrezione generale. Dall'altra i fascisti rinserravano le loro file preparandosi a sostenere l'attacco degli avversari. Già il primo marzo 1945 il ventinovesimo comando militare provinciale, che era poi il comando dell'esercito repubblichino, aveva approntato di intesa con i tedeschi un piano di difesa del capoluogo. E si proponeva di difendere tutte le opere pubbliche che fossero di interesse anche militare. si preoccupava di avere, di sporre di un servizio di difesa interno in ogni caserma, di bloccare tutti gli accessi alla città e anche di creare dei gruppi armati che fossero di riserva, gruppi armati di pronto intervento per, diciamo, sopperire alle necessità di ogni momento, in ogni circostanza. In particolare alla Brigata Nera fu affidata la custodia dell'Aquedotto e la protezione di Porta Calvi e di Porta Santi Quaranta. Il mese dopo, il 13 aprile 1945, il federale diramò un comunicato perentorio a tutti i fascisti della provincia, dicendo, ordinando, che i militi rientrassero nel capoluogo senza alcuna eccezione né per età né per salute, dichiarando che chi non avesse obbedito entro il giorno 20 di aprile a rientrare a Treviso, sarebbe stato perseguito e giudicato dal codice penale militare di guerra in quanto disertore. Nonostante questi preparativi, rimane da notare come gli squadristi le Brigate Nere continuarono ad agire come se non si rendessero conto che per loro era finita. Chissà, forse anche per avere la possibilità di esercitare ancora una volta quel potere, che li faceva evidentemente sentire superiori, di decidere quali delle loro vittime dovessero continuare a vivere o dovessero morire. Pertanto, fino all'ultimo, fino al 25 aprile, essi continuarono, indifferenti, a seminare ovunque lutti e disperazioni. E basta vedere quella che è la sequenza delle date degli eventi luttuosi per rendersi conto di quanto assurdo e quanto tremendo fosse quel momento. Il 13 aprile fu il turno di quattro partigiani, catturati a Loria, che erano stati portati nelle celle del Pio X. All'epoca il Collegio Pio X era stato costretto a trasferirsi altrove e le Brigate Nere avevano creato al suo posto la loro caserma. Ebbene, quei quattro partigiani, la sera del 13 aprile, furono portati fuori dalla caserma Pio X e furono trascinati nelle campagne, dalle parti di Carbonera. Vennero legati tutti e quattro assieme con delle corde, furono storditi con dei colpi di bottiglia sulla testa e spenti ad annegare nel fiume Melba. Il mattino del 16 aprile fu rinvenuto il corpo di un partigiano tumefatto, insanguinato, nel fossato esterno delle mura, all'altezza di Porta Calvi. Era un partigiano che era stato ammazzato dalle Brigate Nere e che era stato catturato solo la sera precedente, quindi il 15 aprile, in Borgo Sant'Antonino. Prima di essere ammazzato, aveva trascorso alcune ore presso il collegio Pio X, presso la caserma Pio X, dove era stato picchiato a sangue, in maniera spietata. Il 18 aprile toccò ad altri tre giovani, i quali stavano tranquillamente passeggiando nei pressi della stazione ferroviaria verso Sera e uno di loro era assieme alla fidanzata. Furono fermati per un controllo da una pattuglia di Brigate Nere che mandò a casa la ragazza e trasferì al Pio X i tre ragazzi, che furono bastonati senza pietà finché non ammisero di essere partigiani. Quindi, sbrigativamente, furono caricati su una camionetta, portati in riviera Santa Margherita, all'altezza dell'attuale università, e li fucilati e buttati nel sile. Il 21 aprile, e come vedete ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine di questa drammatica vicenda, il 21 aprile dicevo il tenente di fanteria Antonio Zorzi, che lavorava presso il comando del secondo battaglione lavoratori a Villa Reginato, a Santa Bona, fu arrestato. Fu arrestato con l'accusa di aver fornito ai partisani dei tesserini di lavoro in bianco, quindi dei documenti che potevano servire di copertura. Fu portato anche egli al Pio X e venne messo in ginocchio tra due brande con le braccia legate alle strutture metalliche. E sei squadristi si alternarono nel picchiarlo e bastonarlo, per ore, per cercare di fargli confessare quali fossero i suoi contatti con i partisani. Zorzi non parlò, però la furia di bastonate a un certo punto si accasciò senza vita. E arriviamo agli ultimi due giorni, il 24 e il 25 aprile. Due rastrellamenti consecutivi. Il 24 aprile il rastrellamento fu condotto nella zona tra Quinto e Santa Cristina di Quinto, Morgano. Era diretto da un ex partisano, un traditore, lince, che era passato nelle file delle bregate nere e, perseguitando i suoi ex compagni di lotta, aveva fatto carriera nelle file degli squadristi, diventando tenente. Ebbene, quel giorno, le bregate nere catturarono dei giovani in casa, oppure mentre erano intenti a lavorare nei campi, e li serviziarono e li picchiarono tutti senza pietà. Dopodiché, tre di loro, vennero, uno dopo l'altro, vennero falciati a colpi di mitra. Il 25 aprile ci fu l'ultimo rastrellamento della brigata nera. A questa operazione parteciparono anche le SS tedesche. Era giunta notizia che c'era un movimento di squadre partisane nella zona di Sambuguet, di Preganzion. Pertanto, andarono a rastrellare, ne seguirono degli scontri e tre partigiani persero la vita in un combattimento. Uno di loro aveva solo 15 anni. Altri due furono catturati, furono portati in un sentiero laterale e abbattuti a colpi di moschetto lungo una siepe. Finalmente, e poi, il 26 aprile, i fascisti, in particolare le Brigate Nere, si rinchiusero nelle loro caserme, preoccupati, preoccupati dal fatto che l'anello delle forze partigiane aveva cominciato a stringersi attorno alla città. Il mattino del 27 aprile, il generale Giacinto Galante, che era l'ultimo federale di Treviso, ricevette la visita del vescovo, Monsignor Antonio Bantiero, il quale gli portò una proposta di resa da parte del CLN provinciale. Il federale Galante rispose con un messaggio nel quale diceva che per evitare spargimenti di sangue avrebbe liberato i pochi prigionieri che ancora languivano nelle celle del Piodissimo e avrebbero dato le loro armi se i partigiani avessero accettato di entrare in città senza armi e senza fare rappresaglie, in più rilasciando a tutti un documento, un lascia passare, che avrebbe consentito di andarsene. I fascisti però non attesero la risposta a quelle richieste e lo stesso pomeriggio del 27 aprile fuggirono da Treviso. Rimisero sì in libertà i pochi prigionieri che avevano dopodiché se ne andarono. non ci furono adunate, non ci furono saluti romani, non ci furono mai in bandiere, discorsi, squili di tromba. La parola onore della quale essi avevano abusato per venti mesi fu semplicemente dimenticata. Gettarono a terra le loro divise, indossarono abiti borghesi e se ne andarono. Chi a piedi, chi in bicicletta, ciascuno verso il proprio destino. La stessa cosa fecero i legionari della Guardia Nazionale Repubblicana e i militari dell'esercito repubblichino. In buona sostanza il fascismo in città a Treviso era definitivamente tramontato. Trattanto continuavano a fervere le operazioni preparativi per l'insurrezione. Il coordinamento aspettava a Ennio Caporizzi, del Comando Militare Provinciale Pertigiano, il quale operava in una casa privata in via Montello. Da lì diramava gli ordini e le disposizioni. Pensate che l'area circostante Treviso era suddivisa in quattro aree. che erano sotto il controllo della divisione partigiana Garibaldina Francesco Sabattucci. E vi erano delle brigate in ognuna di queste zone. Preciso che non c'erano soltanto brigate Garibaldine, ma c'erano anche brigate appartenenti ad altre linee di pensiero. Partito d'azione, Partito Democratico, Cristiano e così via. Il 25 alla sera ci fu un primo intervento partigiano. Fu dato l'attacco al presidio della polveriera di Castagnole di Paese. Il presidio cedette le armi subito, gli uomini entrarono impadronendosi del ricco bottino di armi depositato colà e fecero brillare anche le mine che i tedeschi avevano disseminato in quei contorni. Poi guardiamo un po' le linee principali di accostamento alla città. A sud, a Campocroce, i partigiani si riunirono presso Villa Rigoni e poi cominciarono a imboccare il terraglio e a percorrerlo. Ci furono scontri con sorti alterne perché nelle varie ville lungo il terraglio erano dislocati dei comandi tedeschi. Essi un po' alla volta si impadronirono di tutti quanti quei comandi, si impadronirono anche di un reparto tedesco che era a distanza a Villa Pace, oggi parco hotel bolognese, nel quale c'era anche un reparto della decima masse, si chiamava Gruppo Ceccacci ed era composto di uomini che si erano addestrati a compiere operazioni di spionaggio oltre le linee. Furono tutti costretti ad arrendersi. A nord, la brigata Tito Speri cominciò a rastrellare la zona compresa tra Villa Orba e Povegliano. Da nord-est, la brigata Butacin dopo aver occupato il paese di Carbonera avanzò verso Treviso impadronendosi via via di Villa Passi dove si erano degli uffici della prefettura e il distretto militare. Proseguì occupando quindi Villa Saccardo in via Brigata Marche e infine Villa Folco che era la sede del comando militare provinciale fascista. Villa Folco era dove oggi c'è la casa di cura San Camillo. ebbene la caratteristica di questa conquista fu che non ci fu alcun spargimento di sangue perché i luoghi che furono presi dai partigiani erano già stati abbandonati dai fascisti che come ho detto prima erano fuggiti. Va precisato anche che la documentazione dell'esercito cadde nelle mani dei partigiani perché i fascisti se ne andarono senza preoccuparsi di distruggerle, non ebbero il tempo di farlo. E tutta quella documentazione fu poi conservata dal comandante Ennio Caporezzi e degli anni successivi versata all'Istresco e tuttora è raccolta nel nostro archivio. Il 28 aprile la Brigata Negrin Licori si impadronì dell'aeroporto costringendo alla resa il presidio germanico che la presidiava, che la custodiva. Ma va tenuto presente che intanto avvenivano dei piccoli scontri nelle campagne perché è vero che i fascisti erano fuggiti ma alcuni si erano riuniti in gruppi e tanti avevano ancora le armi con loro. Comunque le formazioni partigiane continuarono ad avanzare finché a un certo punto, il giorno 28, si fermarono in attesa che si completassero le trattative che erano in corso tra il comando partigiano e il comando tedesco. Accade che i tedeschi ponessero delle condizioni estremamente difficili. Volevano cioè andarsene liberi con armi e bagagli, semplicemente, non solo, ma minacciarono anche di aprire il fuoco contro la città di Treviso con la batteria di artiglieria che si trovava a Silea. Lì c'erano dei cannoni da 88 mm. Cosa significa? Che erano dei pezzi di artiglieria in grado di scagliare proiettili del peso di 10 kg di esplosivo ciascuno a 8 km di distanza in ragione di 20 colpi al minuto. Un fuoco in sostanza devastante. Di fronte a una situazione che fu giudicata inaccettabile, il CLN alle ore 16 del 28 aprile ordinò alle brigate partigiane di avanzare, di attaccare, e alle ore 18 i primi reparti cominciarono ad avanzare verso il capoluogo. La presa del centro storico avvenne senza problemi, perché i fascisti, come ho detto, se ne erano andati e i tedeschi avevano lasciato la città per attestarsi all'esterno in 4 o 5 località. Pertanto le nostre brigate partigiane poterono agevolmente impadronersi degli ingressi della città, della stazione ferroviaria e dell'intera cinta muraria. Ma all'esterno invece cominciarono degli scontri accaniti, che si protrassero fino a tutto il 29 aprile, coinvolgendo da una parte i resistenti e dall'altra i tedeschi arroccati nei presidi. Il reparto germanico di Silea si arrese nella notte tra il 28 e il 29, cedendo tutte le armi che aveva i partigiani che ne avevano bisogno. Se andate nel presente che i partigiani che parteciparono a questa operazione erano circa 4.000, però solo 2.500 di loro erano bene arammati. Viceversa una batteria tedesca di artiglieria, situata nella località Alle Corti, continuò a combattere per tutta la giornata del 29 e alla fine riuscì ad aprirsi un varco, riuscì a sganciarsi e a ripiegare verso Sant'Elaio e poi verso nord. Rimanevano ancora due presidi importanti, quello della caserma Tommaso Salsa e quello dei magazzini della Fonderia. In entrambe queste località avvennero degli scontri molto accaniti, però alla sera del 29 aprile gli uomini che erano lì asseragliati alzarono bandiera bianca. Infine si è rese anche un piccolo distaccamento tedesco che si era collegato, si era insediato, scusate, nella caserma de Dominicis, vicino all'aquedotto. Alla fine di tutte queste operazioni si contarono i prigionieri. I prigionieri erano tedeschi, erano migliaia. Soltanto nell'area fra Estrana e Quinto se ne contarono duemila. Ma veniamo ai momenti della liberazione ufficiale. Il mattino presto del 29 aprile, mentre all'esterno avvenivano gli scontri di cui vi ho parlato, il sottotenente Agostino Pavan, che era comandante della brigata Tito Speri, si recò a casa del vice prefetto uscente. Si fesse consegnare le chiavi della prefettura ed andò ad aprire il portone del palazzo in Piazza dei Signori. Lì entrarono i componenti del CLN che, riuniti in assemblea, nominarono prefetto l'avvocato Leopoldo Ramanzini del Partito d'Azione. nominarono anche la giunta composta dai membri dei vari partiti che componevano il CLN e, in buona sostanza, riuscirono, dopo oltre 20 anni di dittatura e 20 mesi di occupazione tedesca e di oppressione repubblichina, a dare per la prima volta vita a una nuova amministrazione democratica. Il 29 aprile pareva che tutto fosse finito, ma nel corso della notte ci fu un momento di panico. In effetti era corsa voce tra i partigiani che ci fosse una colonna corazzata tedesca in ritirata da Padova verso Treviso. E fu così che, quando i difensori di Porta Santi 40 notarono in distanza, in fondo a Viale Montegrappa, un carro armato, diedero l'allarme e i resistenti accorsero a frotta e pronti a una nuova lotta. Qualcuno sparò. Il carro armato rispose con due cannonate che andarono a infrangersi sui muri della porta, sui marmi di Porta Santi 40. Per fortuna si trattò di un equivoco subito chiarito. Non era un carro armato tedesco, bensì un carro armato americano. Gli americani, infatti, quel pomeriggio, 29 aprile, si erano scontrati con i tedeschi tra Istrana e Quinto. Ebbene, il giorno 30 aprile fu il giorno dell'ufficiale della liberazione. Alle ore 8 del mattino i partigiani arrivarono in piazzetta ai Noli al seguito di quattro carri armati americani, a bordo di camion che stralipavano di uomini di resistenti. In piazza dei signori e nelle strade c'era una grandissima folla, festante. Alle 17 ci fu l'accoglienza ufficiale. Il nuovo e neoprefetto, avvocato Ramanzini, accolse gli ufficiali alleati comandati da generale Hendrix e pronunciò un discorso di benvenuto e di ringraziamento, che fu però detto con l'orgoglio da un uomo che era cosciente che la città di Treviso era già stata liberata esclusivamente per opera dei partigiani. Comunque la gioia era incontenibile. Le sirene della torre civica cominciarono a suonare e così suonarono anche a distesa le campane delle chiese di tutta la città e ai balconi la popolazione espose i tricolori italiani. E finalmente si era liberi di muoversi, di riunirsi, di festeggiare, di cantare, di ballare. C'era però un'ombra su tutta questa gioia ed era data dal dolore delle perdite che c'erano state in quei pochi giorni di scontri. Pensate che caddero, persero la vita, più di 200 tra partigiani e civili, tra cui alcune donne e anche dei bambini. E concludo qui il mio intervento ricordando un aneddoto. C'era un signore, un cittadino, di cui non fu mai individuato il nome, che si aggirava tra quella folla festante in piazza, ripetendo a tutti portefiori. Portate fiori, dobbiamo seppellire i nostri, passate parola. Portate fiori, portate fiori, dobbiamo seppellire i nostri caduti, passate parola. Questa è una passione. Questa è una passione.